Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha già una data di uscita? Tutte le anticipazioni qui, Luce dei tuoi occhi 2 è la seconda stagione della popolare fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Prevista nei prossimi Palinsesti Rai, milioni sono i telespettatori che si domandano quando potranno vederla in tv. C'è già una data di uscita ufficiale? E di cosa tratterà questo nuovo capitolo seriale? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli, le anticipazioni e le curiosità a riguardo. Leggi anche, Giuseppe Zeno, età, moglie e figli, dove vive, film e serie tv, altezza, genitori, Instagram Luce dei tuoi occhi 2, quando esce, quando va in onda, data di uscita Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha già una data di uscita? Purtroppo, per il momento Mediaset non l'ha ancora annunciata. Quel che è certo, però, è che vedremo questo amatissimo titolo nei palinsesti dell'annata televisiva 2022-2023. Non mancheremo di aggiornarvi non appena dovessero sopraggiungere maggiori informazioni a riguardo. Dove vederlo Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, non ha ancora una data di uscita ufficiale. In compenso, però, siamo certi che il nuovo capitolo della serie sarà trasmesso su Canale 5. Come sempre, dunque, disponibile anche su Mediaset Play dopo la messa in onda. Trama Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha una trama incentrata sulla protagonista Emma, interpretata da Anna Valle, e sulla sua disperata ricerca della figlia di cui non ha più notizie da molto tempo. Stando alle anticipazioni finora reperibili online, parrebbe proprio che la madre riuscirà a ricongiungersi con la sua piccola nel corso del nuovo capitolo di questa serie. Dopo 18 lunghi anni, il tanto atteso incontro tra le due, dunque, dovrebbe divenire realtà in quel di Vicenza. Tutto è bene quel che finisce bene? Cast personaggi, attori Luce dei tuoi occhi 2, la seconda stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, ha un cast molto variegato. Oltre all'ex Miss Italia nei panni della protagonista Emma, troviamo appunto anche l'amatissimo Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico Leoni. Tra gli altri personaggi, troviamo gli attori Riccardo De Rinaldis, Luca Costa, Elisa Visari, Valentina Costa, Sabrina Martina, Anita Guerra, Bernardo Caserano, Davide Fabris, e Linda Pani, Martina Fontana. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.